E allora abbiamo già parlato a lungo in questi mesi, in questi anni in realtà, ma soprattutto in questi mesi, dei tanti dati che abbiamo a disposizione rispetto agli effetti del cambiamento climatico nel mondo, in Europa, in Italia, più in generale e più in particolare, ne abbiamo già anche parlato a partire dai dati di Copernicus. Avevamo già raccontato la vicenda proprio assieme a Carlo Bontempo, proprio per Copernicus, direttore della sezione CS3 proprio di Copernicus. Adesso esce proprio oggi una nuova analisi, un rapporto rispetto a quello che è stato studiato sul cambiamento climatico nel corso del 2023. Allora diamo nuovamente il benvenuto a Carlo Bontempo per parlarne con calma e con la tranquillità necessaria. Grazie intanto e buongiorno. Grazie a voi e buongiorno. Allora, appunto, come dicevo, abbiamo già parlato delle temperature di per sé. I dati che vengono pubblicati oggi si focalizzano sia sulle rilevazioni di temperature che vengono confermate ancora a mesi caldissimi, 2023 è uno degli anni più caldi di sempre, ma forse il focus è più che altro, insomma, mi sembra di capire sulle conseguenze, insomma, come questo aumento di temperature sta portando in termini di meteo estremo anche in Europa. E quindi, insomma, non potremmo mai andare nel dettaglio, ma a grandi linee qual è stato il meteo estremo dello scorso anno in Europa? Beh, per sfortuna ci sta un po' l'imbrazzo della scelta, nel senso che a livello europeo abbiamo avuto nel 2023 il terzo anno più caldo, più caldo, il secondo anno più caldo nel nostro record, e tutti i tre anni più caldi sono avvenuti dal 2020, per cui questo già dà un'idea dell'accezionalità dell'anno come tale. Però se vogliamo poi scendere nel dettaglio di quali sono le implicazioni o alcuni degli eventi estremi, come dicevo, ovviamente l'imbrazzo della scelta, abbiamo avuto le alluvioni tanto in Emilia-Romagna come in Grecia o in Slovenia con eventi estremamente intensi che hanno generato, sfortunatamente hanno avuto anche impatti funesti sulla popolazione locale, ma hanno avuto, hanno generato dei danni molto significativi a livello europeo. Allo stesso tempo, e non in contraddizione con questo, è il fatto che una parte significativa dell'Europa ha sofferto una situazione di siccità. La siccità era stata uno dei grandi messaggi o dei highlight del rapporto precedente, quello del 2022, e in alcune, in una buona parte dell'Europa la situazione si è andata normalizzando nel corso del 2023, però per esempio nella penisola iberica, in particolare nella frangia mediterranea della Spagna, la situazione è rimasta molto severa, molto negativa, e ancora attrae l'attenzione dei media, la siccità in Catalogna o per alcuni versi in Andalusia. Per cui questo aspetto, che potrebbe sembrare contraddittorio, in realtà sono due aspetti che sono totalmente consistenti con la nostra comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici, l'aumento dell'evaporazione che può portare a un clima generalmente più siccitoso, specialmente nel bacino mediterraneo, e allo stesso tempo l'aumento dell'umidità atmosferica, per conseguenza dell'innalzamento delle temperature globali, porta a una maggiore capacità dell'atmosfera di tenere il vapore acqueo, e questo ha un impatto sulla precipitazione o sull'intensità della precipitazione più intensa. Effettivamente gli eventi, tanto quello dell'Emilia-Romagna, come forse ancora di più quello della Grecia, in cui nello spazio di tre giorni si è vista una precipitazione che di solito avviene nel corso di un anno, dall'idea di questo impatto che è consistente, che è allineato con la nostra comprensione dei cambiamenti climatici a scala europea. Altri impatti simplici, e magari chiudo, perché se no il portafoglio diventa lunghissimo, però un altro evento forse estremo che vale la pena sottolineare è stato questo, di nuovo in Grecia, questo incendio, ed è stato l'incendio forestale più grande nella storia europea, o perlomeno di cui abbiamo traccia nei dati. Per cui un evento estremo, di nuovo in buona parte consistente in accordo con le proiezioni che ci immaginiamo per il nostro continente. Sì esatto, purtroppo non c'è nessuna sorpresa, non è che chi si occupa dal punto di vista della ricerca sia stupito del vedere l'alternarsi di alluvioni e di siccità, insomma sorprese magari da altri punti di vista rispetto magari all'entità, però il fatto che il meteo estremo voglia dire tutti gli estremi del meteo, questo non è di persona sorpresa. Prego. No, no, però in qualche senso forse una delle cose interessanti dell'anno è stato che ci sono state sorprese, ci sono stati molti eventi a partire dall'ondata di calore oceanica che ha colpito una buona parte dell'Europa occidentale. All'inizio, verso la seconda metà di giugno del 2023 abbiamo avuto questa ondata di calore marina con anomalie di temperature che in alcune zone come nel mare d'Irlanda hanno raggiunto e hanno superato i 5 gradi, quindi estreme per le condizioni marine. E la velocità con cui questa si è stabilita e l'impatto e l'estensione spaziale, io penso che abbiano colpito molti, anche degli addetti ai lavori, era al di là di quello che ci aspettavamo, diciamo, e non è stato l'unico evento di questo tipo, ci sono state varie sorprese, e io penso che sia importante per chi si occupa di scienza anche di ammettere le sorprese e indicarle. Alla fine molti degli scienziati fanno questo lavoro per curiosità, per cercare di capire le cose che non si capiscono, e esistono ancora molte cose che non capiamo, ed è importante essere onesti su questo. D'altra parte le cose che capiamo e che sappiamo sono molte, e come anche delineato nel rapporto, possiamo utilizzare queste informazioni per fare delle scelte più ragionevoli, più... sappiamo qualcosa del futuro nel cambio climatico, cosa che non è vera per molti altri ambiti, a partire da quello economico o militare. Non sappiamo purtroppo dove scoppierà la prossima guerra o quale sarà il tasso di inflazione dei prossimi dieci anni. Però sappiamo che il livello del mare sarà più alto di tre millimetri, anno dopo anno. E questa informazione ha un vantaggio strategico, che secondo me come società non abbiamo... non siamo ancora stati in grado di catturare appieno. Sì, esatto, nel senso che questo tipo di incertezza è parte fondante della ricerca scientifica in qualsiasi ambito, non deve essere in nessun modo una mano tesa a chiunque scarichi disinformazione o male informazione rispetto al clima. Proprio un altro ambito di ragionamento, quello su cui ci stiamo muovendo. Magari rapidamente tornerei sul tema di mari e oceani, proprio perché forse è meno dibattuto. Proprio al di là della male informazione e della disinformazione, mi sembra di capire che ci sia meno attenzione rispetto agli oceani e ai mari, rispetto invece ai nostri terreni. E insomma, si capisce perché noi viviamo sulla terraferme, non tanto in mare, però l'effetto ci può essere. E quindi appunto ci stavo dicendo che le temperature si stanno salendo, ma più del previsto per quanto riguarda anche l'acqua che circonda l'Europa. Sì, è una questione... Bisogna stare un po' attenti poi ai dettagli di queste definizioni. Nel senso che sappiamo che gli oceani stanno aumentando di temperatura, sappiamo che negli anni del Nino, come è stato il 2023, la temperatura degli oceani globali tende a essere più alta, se non alto perché il Pacifico è più caldo per effetto del Nino. Dopodiché una parte importante del record di temperatura del 2023 è venuta da zone oceaniche non associate al Nino, in particolare l'Atlantico del Nord o il Mediterraneo. Il Mediterraneo a livello globale ha un impatto molto più basso perché è una zona abbastanza limitata. Se guardiamo le zone dove la temperatura del mare nel 2023 ha raggiunto il suo picco massimo, in ambito europeo vediamo tanto l'Atlantico orientale, cioè la zona per intenderci che va più o meno dalla Bretagna alle Canarie o anche più a sud. Quella zona ha raggiunto il suo massimo storico, però questo è stato vero anche per una buona parte del Mediterraneo, in particolare la fascia costiera meridionale, la costa africana del Mediterraneo dal Marocco fino alla Libia è stata più calda di qualsiasi periodo precedente, quasi tutto il bacino di Levante, per cui il mare prospicente, le coste greche e turche e anche l'Atlantico, l'Atlantico del Nord in particolare ha raggiunto le temperature più calde mai registrate in quella zona. Quindi sì, il Mediterraneo si sta scaldando, il mare globale, gli oceani globali si stanno scaldando e nel 2023 uno degli aspetti forse interessanti è che la traiettoria seguita nel corso dell'anno della temperatura superficiale del mare o perlomeno degli oceani non coperti da ghiaccio, per cui diciamo dal 60 gradi nord al 60 gradi sud, ha seguito una traiettoria del tutto particolare, di nuovo una di queste sorprese dell'anno. Di solito esistono due picchi e dopo il primo picco a primavera la temperatura tende a raffreddarsi a livello globale e poi raggiunge un secondo picco più tardi nell'anno. L'anno scorso non è successo, non c'è stata quasi diminuzione dopo il picco primaverile e la temperatura è andata aumentando e ha raggiunto un picco assoluto ad agosto che poi è stato ulteriormente battuto all'inizio di quest'anno a gennaio. Per cui una traiettoria inusuale e temperature mai viste prima nei nostri dati. Questo è un dato, è un'osservazione e può riflettere anche alcuni aspetti. Noi sappiamo che la maggior parte dell'energia in aggiunta, aggiuntiva al sistema climatico che viene indotta dall'aumento del gas serra viene immagazzinata negli oceani. Stiamo parlando del più del 90% di questa energia aggiuntiva. Molta di questa energia viene immagazzinata negli oceani profondi e quindi non ha un immediato impatto sulla temperatura superficiale. Però è chiaro, piano piano si va riscaldando l'oceano e quello che abbiamo visto nel 2023 potrebbe essere proprio un'indicazione di un cambio di regime che potrebbe avere degli impatti anche sulla temperatura dell'aria nel prossimo futuro. Chiaro, chiaro. E questi sono soltanto alcuni degli aspetti che vengono coperti da questa analisi che è molto molto approfondita. Potremmo parlarne davvero per ore e mi è piaciuta in particolare l'attenzione che ad un certo punto viene data anche agli effetti sulla nostra salute che non è esattamente il focus di per sé di ricerca di Copernicus ma insomma un po' ci ricorda che non stiamo parlando di qualcosa di altrove da noi ma noi ci siamo in mezzo a tutto questo. Non abbiamo tanto il tempo di approfondirlo però magari possiamo invece approfondire anche uno sguardo che viene fatto rispetto all'attività umana. Adesso noi abbiamo di fronte due strade da percorrere in maniera parallela mi sembra di capire proprio a livello di umanità. Da un lato l'adattamento ai cambiamenti che già sono in corso dall'altro il più possibile frenare questi cambiamenti e rallentarli e anche su questi progressi o mancanza di progressi viene raccontato qualcosa all'interno di questo rapporto. Sì, io penso che due alternative non sono due alternative, due strade o facciamo una o facciamo l'altra. Diciamo che esiste una questione quella della mitigazione che da un punto di vista scientifico è abbastanza ovvio nel senso che sappiamo che il meccanismo che controlla una buona parte del riscaldamento a cui abbiamo assistito e quindi degli impatti a cui abbiamo assistito dipende dall'aumento della concentrazione dei gas serra nell'atmosfera. Per cui ne segue come conseguenza logica che se vogliamo frenare questo riscaldamento e diminuire gli impatti di questi eventi estremi dobbiamo stabilizzare le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera. Questo da un punto di vista scientifico è estremamente solido come conoscenza e come fatto. A questo punto la palla un po' passa nelle mani della società, della politica e là il problema è inevitabilmente molto più complicato perché mentre la scienza è semplice il sistema socio-economico in cui le nostre scelte di politica industriale e economica devono poi considerare tutta una serie di aspetti che non hanno a che fare con la fisica del problema e quindi la questione è più complicata però è chiaro che da un punto di vista scientifico la risposta è quella se vogliamo stabilizzare il clima lo dobbiamo smettere di emettere. D'altra parte anche se stabilizzassimo anche se riuscissimo ad arrivare alle emissioni zero nei prossimi mesi cosa che non succederà ma anche se così fosse dovremmo comunque trovarci a vivere ci dovremmo comunque a vivere in un clima che è fondamentalmente diverso dal clima in cui la nostra società è cresciuta e ha prosperato e noi siamo cresciuti come individui. Per questo dovremo e questo indipendentemente da quello che facciamo sul piano della mitigazione dovremo adattarci a un clima diverso e in questo senso essere più capace di utilizzare le informazioni che la scienza i servizi climatici i satelliti i modelli ci forniscono io penso che sia un vantaggio sappiamo qualcosa di quello che succederà sappiamo che questi eventi estremi diventeranno alcuni di questi eventi estremi diventeranno più intensi dureranno più a lungo inizieranno prima nell'anno dipende ovviamente dall'evento estremo beh ha senso utilizzare tutta questa informazione per prepararci una ricerca uscita l'anno scorso parlavamo di salute poco anzi una ricerca uscita l'anno scorso ha indicato che nel 2022 il numero di morti in eccesso dovute alle ondate di calore era stimato intorno ai 60.000 morti a livello europeo adesso ovviamente è un articolo e ci sarà sicuramente dibattito c'è stato dibattito sulla metodologia però il fatto che stiamo parlando di decine di migliaia di morti in più per effetto delle ondate di calore questo secondo me è un dato che fa riflettere e uno degli aspetti che sta nel rapporto è proprio l'impatto delle ondate di calore e lo stress termico che sappiamo è una casa di mortalità importante specialmente per categorie a rischio come gli anziani o le persone cardiopatiche o con problemi respiratori allora sapere che la zona dove il rischio il stress termico è stato estremo è andata aumentando è un dato importante perché sappiamo che questa continuerà nel futuro quindi se vogliamo evitare gli impatti che abbiamo visto nel passato dobbiamo adattarci esistono possibilità anche a livello locale per cambiare le nostre città per cambiare il modo in cui viviamo e ridurre il nostro rischio questo è l'aspetto che io penso ritengo più importante sappiamo qualcosa rispetto a quello che sta per succedere e possiamo organizzarci possiamo modificare i nostri comportamenti i nostri regolamenti legislazione in modo da minimizzare il rischio esatto quindi insomma in teoria gli strumenti li abbiamo anche dal punto di vista di informazioni di dati si tratta di mettere a frutto queste informazioni è appunto uno dei dati di questo rapporto è che per certi versi si stanno facendo dei passi in avanti ma allo stesso tempo questi passi non sembrano essere sto molto generalizzando però insomma non abbastanza rapidi e non abbastanza incisivi questo proprio per fare un quadro molto generale come dicevo potremmo parlarne per ore ma non abbiamo chiaramente il tempo il rapporto però è leggibile se volete raggiungerlo appunto cercando Copernicus insomma lo si trova abbastanza facilmente grazie mille davvero a Carlo Buontempo ancora questa volta per questa chiacchierata spero ci sarà occasione di risentirci ancora ma intanto grazie mille buona giornata grazie a voi arrivederci